Con Andreoni Carlo, segretario, direttore sportivo Fattodum della Biagio Nazaro, si inizia una nuova stagione dopo la brillante stagione dello scorso anno? Sì, diciamo che dopo l'ottimo campionato che abbiamo fatto appena concluso con i play-off nazionali, che siamo usciti addirittura senza sconfitte, solo la differenza reti ci ha dato torto, e ripartiamo dall'eccellenza, che purtroppo per varie vicissitudini, sia finanziarie che altre, non abbiamo fatto domanda di ripescaggio, che poi adesso all'atto pratico abbiamo visto che non sarebbe nemmeno servito a niente, ripartiamo dall'eccellenza, cerchiamo di fare bene anche quest'anno, possibilmente nei play-off è quello che viene, poi vediamo, adesso la squadra diciamo che in maggioranza sono stati tutti riconfermati, tranne qualcuno che ha voluto andare via, qualcuno che è andato alla Iesina, chi è andato a Marzocca, però diciamo che l'ossatura è rimasta, pesa, ha smesso la presenza di Giovanni Fenucci, però penso che abbiamo coperto bene il posto lasciato accanto da lui con Focante, che ha un'esperienza enorme, ha giocato tanti anni in Serie D, in eccellenza, e diciamo che partiamo testa bassa, calmi, tranquilli, senza tanti proclami, poi vediamo quello che strada facendo che avviene. Ecco, senza tanti proclami, ma l'ossatura è quella che ha dato tante soddisfazioni, ma soprattutto con la sconvitta che uno ha perso questi play-off nazionali, c'era il rischio di avere qualche difficoltà in più? Sì, perché, allora, onestamente fino a fine marzo tutto si poteva pensare, meno che c'era la possibilità di andare in Serie D, perché addirittura eravamo fuori dai play-off, no? Poi abbiamo fatto 4-5 partiti alla grande, squadra in salute che andava alla grande, abbiamo vinto tutti i due play-off, siamo andati a giocare con l'anzio, abbiamo fatto bene qui in casa, abbiamo fatto bene lassù, solo un episodio ci ha dato torto, e non eravamo forse preparati mentalmente, ma anche finanziariamente, perché non è facile affrontare una Serie D, perlomeno con l'organico dirigenziale che avevamo adesso, che non siamo in molti, e allora, diciamo, c'è stato un attimo un po' di tentennamento, cose varie, e adesso invece magari si parte con un'altra mentalità, se è possibile fare bene, se dovesse venire l'opportunità come è venuta quest'anno, saremo preparati magari dall'inizio, strada facendo, cercheremo di organizzarci con l'entrata di qualche altro dirigente, qualche sponsor, vediamo, ecco.